Enzo Capo Anche se Uomini e Donne è il volto al termine, i vari protagonisti del talk show continuano a far parlare molto di sé. Tra questi c'è, sicuramente, Enzo Capo, che poco fa ha annunciato di essere finito su un sito di incontri.Il Cavaliere ha replicato ad alcune accuse ricevute. Di recente poi ha fatto un appello ai fan chiedendo il loro aiuto. Andiamo a vedere quello che è successo e le sue ultime dichiarazioni. Le immagini di Enzo Capo su un sito di incontri Enzo Capo è stato protagonista di un increscioso avvenimento, dato che la sua foto è finita su di un sito di incontri. Il giovane ha fatto sapere che qualcuno si è servito della sua immagine per adescare delle donne su un sito fatto apposta, per dare luogo a conoscenze virtuali e conseguenti incontri dal vivo. Unde evitare che possano nascere spiacevoli equivoci, quindi, Capo ha esortato tutte le persone che lo seguono a segnalare quanto prima questo profilo in modo che venga chiuso.Poco prima di questo avvenimento, però, Enzo si è trovato al centro di altre polemiche. La relazione con Pamela Barretta è, ormai, volta al termine, ma gli strascichi che si stanno propagando sono davvero numerosi. Nel corso di una recente intervista, il napoletano ha ribadito di non provare più nulla per la sua ex, in quanto l'ha erroneamente idealizzata come la donna perfetta. Continua dopo la foto. Enzo Capo su un sito d'incontri lo sfogo dell'ex di Pamela ad oggi, però, prova solo un profondo senso di delusione. In difesa della giovane, però, pare sia intervenuta la sua amica Cristina in Corvaia. Quest'ultima ha accusato Enzo di non essere l'uomo che dice. Dietro l'apparenza, dunque, ci sarebbe una personalità ben diversa e molto più oscura. Allo scopo di rispondere a queste critiche e a molte altre, Enzo Capo ha deciso di pubblicare delle Instagram stories.In tali clip, l'ex di Pamela. Ha esortato tutte le persone che lo seguono a difidare da ciò che viene detto in giro perché, in fondo, lui è un bravo ragazzo. In alcuni momenti, forse, è un po' fuori di testa, ma resta pur sempre un bravo ragazzo. Per sdrammatizzare un po' la questione, il giovane ha annesso un simpatico TikTok in cui canta proprio... Per sdrammatizzare un po' la questione, il giovane ha un po' la questione, il giovane ha un po' la questione, il giovane ha un po' la questione. Per sdrammatizzare un po' la questione, il giovane ha un po' la questione, il dialogo di rispondere la았�cole 두�坑vo. Per sdrammatizzare un po' la questione, il giovane ha un po' la questione, il giovane supero, perché, il giovane ha un po' la questione, ha un po' la questione. Grazie a tutti.